Musica Qui nei fogli che vi ho dato porto uno dei tanti teologi contemporanei, no? Bulgakov contemporaneo e moderno, insomma, che dice l'amore ha se stesso nell'altro. Esiste solo nell'auto-identificazione con l'altro, in sé, è come non esistesse. Tuttavia, in quanto non esistere, in questo non esistere, si palesa tutta la forza della sua esistenza, nella misura in cui l'altro esiste in lui e la vita si attua nell'altro. Quindi, nella Santissima Trinità, ognuno dei tre è donato agli altri, è se stesso non essendo, non essendo in sé, ma nell'altro. È se stesso perché dagli altri è restituito a sé, nella reciprocità. il paradosso dell'amore è questo, che l'amore non è, non esiste per sé, e proprio per questo è amore. ci siamo? Questo, io lo dico, per riprendere il comandamento nuovo, che è la vita nostra, la legge della comunità. perché l'altra volta abbiamo commentato soltanto la prima parte dell'amore reciproco, del comandamento nuovo, amatevi l'un l'altro. Ma il comandamento nuovo non è soltanto amatevi l'un l'altro, avendo la pericoresi come modello, no? Le tre persone che danzano nell'amore reciproco. ma il comandamento nuovo è amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. E c'è allora l'altro versante, c'è tutto il versante del mistero pasquale. Cioè per poterci amare fra di noi occorre il come che ha due significati. causale e esemplare. Dovremmo tradurre amatevi l'un l'altro come causale nel senso di perché io vi ho amato. Voi, potremmo tradurre così il comandamento nuovo, voi potete amarvi gli uni gli altri perché io per primo vi ho amato. e io vi ho trasmesso il mio amore. Gesù ci rende partecipi del suo amore. Amatevi come io vi ho amato. Quel come in greco vuol dire anche perché. Voi vi potete amare soltanto nella misura in cui accogliete l'amore che io ho per voi. Non c'è amore più grande di questo, dargli vita per gli amici. io vi do la vita. Siccome io ricevo la vita di Gesù, la ricevo nel battesimo che è l'immersione nella morte e resurrezione di Gesù. Siccome io sono immerso nel battesimo e rivive in me la vita di Gesù, allora io posso amare come ha amato Gesù perché Lui è dentro di me. Il come è anche esemplare. Cioè amatevi l'un l'altro sul modello del mio amore. Come io vi ho amato. In che modo vi ho amato? Vi ho amato donando tutto. Svuotandomi. un amore che è notico. Cioè che dona tutto. Che non tiene niente per sé. Che si svuota per l'altro. Allora, cosa vuol dire amarsi l'un l'altro? Vuol dire fare lo stesso processo che ha fatto Gesù. Che non ha considerato un tesoro geloso ciò che era più suo che era l'uguaglianza con Dio. e vi è arrivato al punto da dare la sua stessa divinità per noi. Da dare il suo stesso padre il suo stesso spirito. Allora amarsi l'un l'altro come io vi ho amato vuol dire essere pronti a vivere la kenosi sul modello di Gesù. Ognuno di noi deve poter dire io mi svuoto completamente cioè mi dono completamente perché lo svuotarsi può essere in due modi no? Io mi devo mi devo liberare della giacca mi devo liberare della maglia mi devo liberare del microfono mi devo mi spoglio di tutte queste cose le butto via le butto via e non è questa la kenosi di Gesù Gesù si leva la giacca e la dà a te si leva il maglione e la dà a te si leva il microfono e la dà a te cioè è è il dono è il dono di tutto io mi svuoto donando a voi mi privo di tutto perché vi amo come Gesù sulla croce si priva di tutto per darlo a noi perché ci ama ora adesso potremmo andare a rivedere appunto nella sua interezza quello che è il comandamento nuovo che Gesù ci ha dato come legge della vita fraterna e ritorniamo al discorso dell'altra volta qual è la legge che lega la nostra comunità l'amore reciproco cosa è l'amore reciproco? è il comando nuovo che Gesù porta per la prima volta è suo perché lo porta dal cielo è la legge divina della trinità ora torniamo nella trinità come si vive nella trinità la legge di vita nella trinità ognuno si svuota per l'altro cioè dona tutto all'altro in un dono reciproco perché nel momento dicevamo in cui si dona l'altro ridona e l'identità di ognuno non sta nell'affermare se stesso non è che il padre dice io sono il padre e mi tengo tutto non è più padre perché non genera il figlio il figlio potrebbe dire io sono Dio adesso mi tengo tutto non sarebbe figlio se non si ridona il padre lo spirito potrebbe dire io sono l'amore l'amore di chi se non sei l'amore dei due ora vedete che l'identità delle persone sta nel perdere la loro identità nel donarsi fino in fondo nella donazione di tutto se stesso ognuno dei tre è se stesso quindi l'amore è non nel momento in cui si appropria della sua identità ma nel momento in cui dona e perde la sua identità allora perdendo la sua identità uno veramente è perché è amore è dono io sono quando mi dono quando mi dono tutto a voi donandomi tutto io sparisco non sono più allora sono perché ho raggiunto la mia identità quella di essere dono perfetto vi racconto una piccola storia no? perché se no qui il discorso si fa una piccola storia di un monaco buddista thailandese che è venuto qua in Italia è venuto ad abitare tre mesi con noi e siccome lui è arrivato d'inverno noi abbiamo alzato il riscaldamento perché sai lui venendo dalla Thailandia aveva freddo poi si ritirava nella sua stanza e lasciava fuori della stanza come si fa i suoi sandali il suo mantello perché non si entra nella stanza da letto con i sandali questi sono i barbari occidentali che fanno questo ma nessun altro lo fa e noi prendevamo i sandali li pulivamo prendevamo il mantello lo stiravamo la mattina usciva e trovava i sandali puliti il mantello lo stirato così poi dopo le dodici non possono più mangiare allora noi mangiamo a luna allora abbiamo anticipato il pranzo apposta per lui così insomma lui si è accorto di tutte queste piccole cose che tutti quanti facciamo normalmente no cioè questi diciamo piccole attenzioni questi piccoli atti di amore che devi fare a una persona e a giustamente ha detto ma perché fate queste cose qua perché io trovo i sandali puliti il mantello stirato i termosifoni alzato il pranzo fatto per me ma perché noi gli spieghiamo perché perché insomma dobbiamo amarci sai Gesù ci ha insegnato che dobbiamo amarci fra di noi sai così così per un orientale di quella zona là ecco della Thailandia così per un buddista soprattutto no per un buddista ci sono delle cose che sono impure io mi ricordo la prima volta che sono andato a Bangkok mentre passeggiavo una donna una vecchia era seduta per terra ha cominciato a gridare contro di me io non sapevo che voleva sono allora ho chiesto a chi mi accompagnava ma che che cosa ho fatto e ho detto eh sai avevo la barba allora avevo una bella barba così avevo ti sta dicendo che ti devi rasare la barba devi tagliarti la barba devi tagliarti i peli io sono la dimostrazione di Darwin che l'uomo discende dalle scimmie no guardate qua ti deve tagliare i peli perché la barba i peli è tutto impuro no i monaci sono tutti rasati tutti quindi poi la cosa peggiore è il sangue cioè il sangue rende impuro un giorno appunto poi un giorno questo monaco è andato siamo andati per certe circostanze a Nemi conoscete Nemi qua vicino sulle colline là ecco a Nemi c'è un lago è bellissimo un posto bellissimo c'è anche una chiesa dedicata al crocifisso e in questa chiesa c'è un crocifisso bellissimo di grandezza naturale e proprio realista pieno pieno di di sangue così proprio no come doveva essere Gesù sulla croce che era maledetto da Dio no impuro era proprio impuro Gesù lì io dicevo speriamo che non vada là dentro perché se vada là dentro vede Gesù sporco con il sangue con la barba con tutte queste cose e lui invece va là e si ferma a far meditazione davanti al crocifisso ora appunto non c'è cosa più lontana dalla mentalità buddista del crocifisso perché Buddha è bello Buddha è sereno Buddha è rasato Buddha è composto Buddha è grasso c'è la perfezione la perfezione la perfezione così Gesù è contrario è scomposto magro si vede tutte le costole grida 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 quindi è l'opposto della mentalità dell'Oriente che è appunto la pace l'armonia la bellezza e questo passa ore in contemplazione davanti al crocifisso il giorno dopo lo stesso torna là così ecco mi sono dimenticato di dirvi che quando noi gli spiegavamo a lui quando ci domandava ma perché fate così con me che cosa noi parlando con lui dicevamo appunto la vita cristiana è così perché l'amore cristiano è l'agape l'agape cioè è un amore disinteressato questa parola l'agape lo aveva colpito perché l'agape è vicino un po' al buddismo eh perché è l'amore puro cioè tu ami senza nessun interesse ami gratis fino in fondo e ora gli dicevo questa parola l'agape ho imparato una nuova parola agape agape era greca lui pensava fosse italiana no agape comunque dopo due tre giorni che meditava come soltanto i buddhisti sanno fare davanti al crucifisso esce e dice ho capito cos'è l'agape lui è l'agape aveva capito aveva capito che il crucifisso era la pienezza dell'amore era l'espressione dell'amore e che noi possiamo vivere l'amore grazie a lui dopo questo soggiorno in Italia si è fatto regalare un crucifisso voi voi sapete i monaci vanno con una cesta dove hanno le loro poche cose tra queste poche cose c'è il crucifisso poi sono tornato a trovarlo altre volte in Thailandia e lui ha tanti discepoli ai quali fa le sue catechesi e nelle sue catechesi c'è sempre un momento nel quale dice sono stato in Italia e ho capito ho scoperto una parola l'agape e comincia a parlare dell'agape dell'amore puro disinteressato e quando ha convinto tutto l'oratorio della bellezza dell'agape dice adesso vi faccio vedere l'agape e tira fuori crucifisso e spiega Gesù crucifisso che per amore si è lasciato crucifiggere e i miei fratelli missionari oblati di Maria Immacolata mai potranno andare davanti ai buddhisti a spiegare Gesù crucifisso mai lui può farlo bene come sempre in queste lezioni io non è che devo spiegare tutti i passaggi io vi do solo l'idea e poi tocca a voi studiare vero? ecco nel libro che avete c'è un capitolo su il mistero pasquale come il luogo attraverso il quale passa la vita trinitaria in noi e come il luogo nel quale si capisce qual è la legge trinitaria e qual è la legge dell'amore reciproco come ci siamo fra di noi quindi la vita divina arriva in terra come dicevamo le altre volte ma arriva attraverso il mistero pasquale di morte e resurrezione di Gesù è lì il passaggio il mistero pasquale non è solo il luogo del passaggio che ci fa arrivare la vita divina ma è anche il modello sul quale noi dobbiamo imparare a vivere l'amore reciproco fino a dare la vita per l'altro grazie a tutti